Per questo sedicesimo anniversario, questo sedicesimo compleanno, lo spettacolo Up and Down di Paolo Ruffini! Fate l'applauso! Sono molto contento di essere qui alla Cittadella, siamo pronti, siete pronti? Oggi è il compleanno della Cittadella, fa 16 anni, giusto? Buona! Non vediamo l'ora di tagliare questa torta e di soffiare sulle candeline. Bell'applauso Federico, Erika, Andrea, Rachele, Lamberto, Claudia, Campoloco, la compagnia Maior Bonfrizius, Up and Down! Buona domenica! Tutti coloro che adesso ci stanno guardando, voi guardate pure il pubblico e ammirateci, guardate che bellezza è l'umanità! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sulle mani e fessa! Auguri! Grazie a tutti coloro i quali si sono impegnati per regalare un pomeriggio diverso e grazie per aver scelto il tema dell'inclusività che è in linea con questo sentiment che ci accompagna da tanto. Grazie! O siamo tutti speciali o siamo tutti normali, mettiamoci d'accordo, forse l'importante è essere se stessi, perdonarsi per essere chi siamo, darsi una carezza in più, essere se stessi non è mai un peccato ma è una carezza, una cosa meravigliosa. E ci rendiamo conto che c'è sempre un pizzico di dolore nella felicità. Ma quante volte siamo disabili a riconoscere la felicità? Quante volte siamo disabili a riconoscere la bellezza, la meraviglia? L'unica cosa forse veramente normale nella vita è voler essere felici. Quello, quello è. In questo senso forse dobbiamo essere tutti quanti noi abili, essere coraggiosi, riconoscere la nostra fragilità e sapere che se si fa un passo in avanti, anche se siamo fragili, ci possiamo appoggiare su qualcuno. Quindi abbiamo questa grande occasione, quello di tenerci tutti stretti, indispensabili, difettosi, unici, fragili e normali e speciali così come siamo. Tutti stretti, come dentro. Un grande abbraccio! Grazie!